Super gigante della Val Gardena se lo aggiudica Axel Svindal. Bellissima la gara oggi, ha solo 5 centesimi il suo vantaggio sul secondo, che è l'italiano Christoph Innerhofer. Non è la sua neve, forse neanche tanto la sua pista. Le condizioni che lui predilige sono il ghiaccio vivo, però già quest'anno ha dimostrato in Canada e poi ancora qui di essere competitivo anche su questo tipo di neve che non è troppo ghiacciata ma che è piuttosto aggressiva. Al terzo posto un altro norvegese, il leader di disciplina Jansrud, molto molto tirati di stacchi e domani va in scena la discesa libera.